Renault Arcana 2023, ecco che ci siamo. In arrivo il nuovo modello dei veicolo con una particolare novità dal punto di vista della sua immagine. Scopriamo di cosa si sta a parlare. Tante auto di questi ultimi tempi si sono presi la scena e anche parecchie copertine per quel che è una continua corsa verso l'innovazione e il progresso. Lo stesso fare Renault Arcana 2, eccola. Ci sono dei marchi di auto, o per essere più precisi delle grandi aziende che producono vetture, che non lasciano mai nulla di intentato dal punto di vista della ricerca e della innovazione. Da che mondo è mondo il vero grande target, il vero obiettivo di una casa automobilistica e resta sempre quello di trovare una crasi concreta tra ciò che può essere il suo livello di qualità e di sicurezza. Da che mondo è mondo il vero grande target, il tra le aziende che da anni in effetti sono in grado di avvicinarsi molto a ciò che può sembrare un sogno da questo punto di vista senza dubbio via e, da tempo, si punta al top qui. Un vero esempio da questo punto di vista è la necessità, insita nei progettisti, di esplorare nuovi lidi di Migliorian nelle offerte dei modelli che stanno per sbarcare sul mercato. L'esempio è proprio qui, davanti ai nostri occhi o per meglio dire di fronte a quelle che sono le nostre più rose aspettative. Stiamo parlando come avete senza dubbio capito della nuova Renoir nella sua versione del 2023. Dunque che genere di innovazioni ci si può aspettare? Dal punto di vista sia pratico che tecnologico ma anche in termini di sicurezza, che cosa è emerso? Attraverso ciò che trapela sul web e tra i vari rumors, si potrebbe parlare di una linea finale del nuovo modello della Renoir Cana come un vero trionfo di bellezza. Ma cosa aspettarci? Dal punto di vista della profonda innovazione e rivoluzione, pur nel rispetto della tradizione la Renoir Cana 2023 come potrebbe essere definita? Ma cosa aspettarci? Dal punto di vista della profonda innovazione quali le ipotesi credibili di novità e correzione?